La potremmo definire la storia infinita, quella che riguarda il fiume Aterno. Siamo nel ponte che collega due frazioni, Onna e Monticchio. Sono davvero tantissimi i servizi che Rete 8 ha dedicato a questo argomento, ma le cose non sono cambiate. Le associazioni locali, le associazioni del posto, continuano a chiedere controlli sulla qualità delle acque per quello che puntualmente e periodicamente accade. Tanti anni però nessuna risposta e sinceramente tutti sono stanchi di essere presi in giro. Così si sentono. Ci risiamo, ancora schiuma bianca nel fiume Aterno, nel punto dove si trova il ponte tra le frazioni di Onna e Monticchio. Un problema sollecitato più volte dagli abitanti, ma mai nessuno ha risposto. A volte c'è schiuma bianca, altre volte l'acqua diventa nera con un odore cattivo. Non è la prima volta che Rete 8 si occupa della problematica. La paura ovviamente è quella dell'inquinamento ambientale, soprattutto perché l'acqua viene usata per irrigare i vicini campi. Scarichi che con frequenza periodica uscirebbero dai tubi che dovrebbero invece mandare acqua pulita dal depuratore del nucleo industriale di Bazzano e dal 2009 anche di alcuni progetti case della zona. Un flusso, quello degli scarichi, che aumenta a dismisura in caso di forti piogge. Le associazioni locali, tramite Margherita Nardecchia, più volte hanno cercato di far luce sulla vicenda con segnalazioni ed esposti, ma il problema periodicamente si ripropone e mai nessuno neanche si è degnato di dare una risposta. Le associazioni continuano quindi a chiedere alle autorità preposte di effettuare dei controlli, controlli sulla qualità delle acque, ma soprattutto sul corretto funzionamento di quel depuratore costruito ormai nella frazione 20 anni fa e per il quale, come si ricorderà, c'erano state pure molte proteste da parte dei cittadini.